Sono circa una decina i pazienti affetti da tumori del sangue che ogni anno al Manzori di Lecco subiscono trapianti con cellule staminali. Un percorso sperimentale attivato da tempo con l'ospedale Niguarda di Milano e che ora ha ottenuto un'importante certificazione necessaria a proseguire questo tipo di cure. È un importante accreditamento per i trapianti che servono a tutti i pazienti con malattie oncoematologiche, trapianti di cellule staminali che già avvenivano nel nostro ospedale ma che oggi hanno un riconoscimento ufficiale di un percorso che abbiamo fatto insieme all'ospedale di Niguarda e che permette un importante upgrade per i nostri pazienti per tutto il lavoro dell'ospedale e per la ricerca che svolgiamo. È un prestigioso riconoscimento e non solo un riconoscimento perché è qualcosa di sostanziale che ci permette di continuare a implementare l'attività di trapianto di cellule staminali che viene fatta nel nostro reparto da tempo ma che è anche un riconoscimento a tutta l'attività fatta sui pazienti oncoematologici cioè quei pazienti che hanno tumori del sangue tipo linfomi, leucemie, i mielomi. In particolar modo il trapianto di cellule che noi facciamo è dei pazienti con mieloma multiplo ma che verrà implementata anche in altre forme. Dal punto di vista trapiantologico la media è di circa 10 trapianti l'anno, ne abbiamo eseguiti circa 117 dall'inizio dell'attività. Abbiamo circa 480 prime visite l'anno con 3.000 accessi per chemioterapie e 2.000 visite ambulatoriali. Questa certificazione è molto importante per consentire la prosecuzione di un'attività trapiantologica di cellule staminali autologhe che abbiamo iniziato nel 2004 per i nostri pazienti affetti da mieloma e attualmente anche da linfoma non Hodgkin e linfoma di Hodgkin in modo da consentire la qualità delle procedure a livello europeo.